Bene, buongiorno a tutti. Direi che possiamo dare inizio a questa seconda giornata del convegno dedicata verso la liberazione, Roma in guerra tra occupazione, antifascismo e esistenza armata 1943-1944, organizzato dal Senato in occasione del sedantesimo anniversario della liberazione di Roma. Mi è stato dato l'incarico di sostituire indegnamente, molto indegnamente, il presidente Zavoli che purtroppo non può partecipare alla mattinata odierna. Io direi senz'altro di cominciare visto che siamo già in ritardo sulla tabella di marcia con i lavori, ricordo i relatori che ciascuno di voi ha 20 minuti, per cui comincerei con Ermanno Taviani, dell'Università di Sud di Catania, il cinema in guerra, propaganda ed evasione durante l'occupazione tedesca. Prego. Grazie, buongiorno. Metto il timer così. Allora, il problema del cinema a Roma nei mesi dell'occupazione ha ovviamente molti aspetti e cercherò di metterne a fuoco soprattutto due, quello relativo alla propaganda e quello relativo ai film che si vedevano, diciamo. Meno sappiamo delle reazioni del pubblico, anche se attraverso memorie, testimonianze, anche rapporti di polizia, qualcosa diciamo è, però è un campo ancora tutto da studiare. Innanzitutto, come spesso accade durante i grandi eventi storici, i cinema, i teatri, ma soprattutto i primi, hanno continuato a funzionare nella Roma di cui stiamo parlando in questo convegno. E anzi, almeno fino al 1943 fino al 25 luglio, il divieto di circolazione ai film americani, che poi era parziale, aveva aperto una grande prateria alla produzione italiana che era più che raddoppiata dal 1940. La cosa che noi dobbiamo capire, diciamo, è che il rapporto con la sala cinematografica, con il cinema, era molto diverso rispetto a quello di oggi, diciamo. Era un consumo culturale molto più intenso, anche lì poi su più livelli, dalle prime al Quattro Fontane al Barberini, alle salette di periferia, eccetera, o anche poi alle sale parrocchiali, anche se quello è un fenomeno che prende, diciamo, piede con maggior forza dopo la Seconda Guerra Mondiale. Comunque sia, diciamo, il rapporto con questo tipo di comunicazione era qualcosa che colpiva molto di più l'immaginario e l'identità. All'interno però di un contesto come quello della Roma, che aspetta la liberazione, diciamo, che sembra imminente e dopo lo sbarco di Anzio ancora di più, sembra, diciamo, che possa essere un giorno dopo, anche se poi si aspettano quattro mesi. Famosa la scritta, su un muro di Roma, apparsa, se non sbaglio, ad aprile, americani, aspettateci che venimo noi a liberarvi, dopo tre mesi che si sentiva il cannone, diciamo che era vicino, e questi americani, anzi vicinissimo, non arrivavano mai. Comunque sia, un altro aspetto che si può citare, ma che, su cui poi esistono tanti studi, è il fatto che se il consumo di cinema e di film in questi mesi non si interrompe, vedremo poi in che modo, diciamo, tutto ciò, come si svolge, allo stesso tempo Roma smette per molti versi abdica, per appunto le ragioni belliche e con la nascita della RSI, eccetera, 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 di essere un set, così come di essere un centro di produzione di cinema. Come è noto, i tedeschi usano cinecittà per scopi militari e quindi, e cinecittà poi sarà un'eredità importante che il fascismo lascerà al cinema del dopoguerra, anche se solo dal 47, quando verranno sgombrati gli sfollati, riprenderà a svolgere la sua funzione di più grande studio cinematografico d'Europa, come grandezza dei teatri, eccetera, e allo stesso tempo, diciamo, come sappiamo, all'inizio del 44, l'Istituto Luce si trasferisce a Venezia, così come cinecittà si trasferisce alla Biennale, nei palazzi della Biennale. Là, un altro aspetto che voglio solo citare, di cui tanto si è parlato, è quello di tutti questi cineasti antifascisti, o che lo diventano in questi mesi, che preparano i loro progetti. È una storia complessa che ha dato adito a più di una polemica, anche perché poi il Rossellini che fa Roma Città Aperta, fino al 1942, fa tre film di propaganda per la guerra fascista, così come De Sica lavora in molti film. Quindi è una tematica questa di cui dagli anni 70 in poi si è discusso ampiamente, diciamo, per dire la tematica del lungo viaggio di questi giovani intellettuali e cineasti dal fascismo all'antifascismo. Ma non riguarda poi le grandi figure, cioè il regista del documentario di propaganda del PC Togliatti è tornato, girava documentari di guerra per il luce, insomma, il tema è molto complesso. Lo stesso, a un certo momento, Luigi Freddi chiama un gruppo di intellettuali in odore all'antifascismo a curare la propaganda, dicendogli, è tanto se non ci riescono i fascisti provateci voi a fare una propaganda di guerra che funziona. All'interno, diciamo, di questo discorso, un posto importante, poi verremo alla fiction, è rappresentato ovviamente dai cinegiornali. Anche qui si tratta di, e non possiamo entrare in merito del discorso, di un genere cinematografico con tutta una serie di crismi, dove poi l'interesse non è tanto, è soltanto su quello che viene detto nel cinegiornale, che viene raccontato, quanto in un confronto all'interno di un genere anche con i cinegiornali di altri paesi. Dal resto, e qui il legame con la propaganda, il discorso sulla propaganda, è anche qui molto ampio, ha molte sfaccettature, perché, come dire, anzi, se vogliamo, il cinema come strumento, come produzione di massa, di prodotti culturali, inizia con un'altra guerra, con la prima guerra mondiale, il più grande studio cinematografico d'Europa, cioè la UFA di Berlino, nasce come ufficio propaganda cinematografica dello Stato Maggiore dell'Esercito tedesco. E quindi, diciamo, da lì poi diventa la società che produce Metropolis, o in i Belunghi, i grandi film tedeschi degli anni 20. E qui, quindi, c'è un problema di modelli narrativi, eccetera, su cui però, appunto, non possiamo soffermarci. Quello che va detto è che, per la propaganda politica, il fascismo aveva puntato soprattutto sui cinegiornali e non sui film di finzione. Anche se esistono film di finzione e propaganda, ma, ad esempio, della rivoluzione fascista nei film fascisti non se ne ha parlato, se non in due o tre, perché non si voleva ricordare il tempo della guerra civile. E anche perché il modello era un po' quello di Hollywood e, per certi versi, un po' quello tedesco, come sappiamo, anche in Germania. Sui duemila film prodotti dalla Germania nazista, fino anche durante la guerra, quelli di propaganda, in un qualche modo, anche ambientazione storica, sono meno del 10%. Perché Goebbels pensava che parlare troppo di politica, fare propaganda, eccetera, non fosse una cosa che avrebbe annoiato il pubblico e temeva di più, diciamo, appunto, un effetto contrario rispetto ai contenuti che si volevano propagandare. La novità che abbiamo appunto nei cinegiornali in questo interregno, in questa fase di Roma occupata tra il settembre del 43 e il giugno del 1944, presentano però delle novità. Innanzitutto, ovviamente è inutile ricordare che il cinegiornale era obbligatorio nei cinema. Poi molti esercenti, direttori di sale, a volte non li facevano, poi arriva una direttiva proprio della RSI che dice no, il cinegiornale è obbligatorio e viene ribadita questa cosa e lo vedete anche nei programmi dei cinema, sui quotidiani di quei mesi, che a un certo punto il giornale compare nel 50% dei cinema e invece da un certo momento in poi è di nuovo presente, c'è il film tal dettaglio e giornale. Poi vedremo quali, perché non c'è solo il luce, ma ci sono anche, ci sono altri due tipi di cinegiornali. Le novità che abbiamo nella Roma occupata e più in generale nei cinegiornali della RSI riguardano innanzitutto la ricomparsa di Mussolini. Mussolini nel 43, tra la fine del 42 e del 43, se uno va a vedere i cinegiornali, dà 80 apparizioni nel 42, 100 apparizioni, 60 nel 42, all'inizio del 43 scompare. Il 25 luglio era già cominciato nei cinegiornali e perché invece ricompare il re come simbolo dell'unità nazionale. Là, così come anche il senso dell'8 settembre, quindi queste parate militari con due aeri scassati, questi reparti poco marziali, cioè tutta questa sensazione è molto forte se uno si rivede appunto i cinegiornali del luce. E così come i rapporti dei prefetti ci dicono, i rapporti di polizia, che a un certo momento c'è un dubbio se continuare a fare il cinegiornale perché quando apparivano le terrafasciste partivano le bordate di fischi, partivano i commenti ironici, era diventato, diciamo, in certi casi, soprattutto nei cine di periferia, nelle grandi città, delle adunate sediziose, che è un po' quel clima rievocato in Roma di Fellini, c'è una sequenza appunto nel 43 in cui tutti si mettono, qualcuno comincia a fare dei commenti. L'altro aspetto, diciamo, che notiamo nei cinegiornali che si vedevano nel Roma Occupata è la ripresa di questo tono combattente bellicoso della della propaganda della Repubblica Sociale Italiana. Cioè questo convive anche con questo senso di sbandamento eccetera, ma però, diciamo, questa missione combattente, questo tono nuovamente politicamente forte è una cosa che ritroviamo, anche se qui, diciamo, abbiamo, come dire, un po' due linee, cioè da un lato in alcuni giornali emerge, e lo troviamo nel dibattito del regime, la linea di Pavolini, di Farinacci e quindi di presentare la guerra, e questo si accentuerà poi alla fine del 44, come scontro epocale, ideologico, di sistemi tra barbari e civiltà eccetera, e invece una linea più moderata che puntava sull'unità nazionale, sull'orgoglio italiano, sulla difesa della nazione e quindi tutto questo però convive con che cosa che ci colpisce ancora nei cinegiornali? Con il fatto che poi continuano ad esserci questi servizi leggeri, quindi possiamo avere il servizio sulla barbaria comunista che avanza verso la Polonia e accanto poi dopo c'è le danzatrici bulgare o la fiera o l'accademia di cavallo di Vienna, cioè tutto questo dentro appunto un modello di cinegiornale che non era solo italiano e che su cui però appunto in questo momento con il tempo a disposizione non si può discutere. E quindi con questa seconda linea quella anche di presentare una normalità dell'Italia occupata, una normalità ovviamente soltanto reale nei cinegiornali di appunto e quindi con tutto quel discorso didattico su come conservare la frutta, insomma tutte quelle cose di economia di guerra. L'altro aspetto diciamo che però continua pure accanto a queste linee è quella l'evasività rispetto a il cinegiornale già dal 43 di fronte a un problema che hanno insomma ha sempre la propaganda cioè quella della irraccontabilità di una sconfitta e che quindi anzi dalla fine del 42 è molto forte, cioè si sgancia da un racconto dei fatti. E il primo grande fatto che nei cinegiornali non c'è è ad esempio lo sbarco in Sicilia e da allora il cinegiornale se noi vediamo i cinegiornali del 44 c'è la campagna d'est ma non c'è più la campagna d'Italia e quindi se è vero che sui quotidiani non si poteva fare a meno di pubblicare il bollettino dello stato maggiore eccetera 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 o diciamo su altri mezzi di propaganda però invece sul piano delle immagini la radio era lo strumento in diretta non il cinegiornale che comunque era diciamo aveva due giorni un giorno di ritardo rispetto ai fatti perlomeno bisognava girare le cose sviluppare la pellicola montare portare e produrre diciamo il servizio di un minuto o due del cinegiornale. Nei cinegiornali passano due grandi operazioni di propaganda di cui si è parlato ieri e di cui si è parlato anche al convegno al Vittoriano e che riguardano proprio Roma. Da un lato c'è tutta la questione del nemico appunto come barbaro come gangsteristico e tutta la questione dei bombardamenti già dal 1942 di fronte a le sconfitte comincia dopo invece il 41 e il 40 in cui nel cinegiornale si esaltava abbiamo i tedeschi hanno spianato Coventry e i bombardamenti su Londra e quindi si esaltava il potere distruttivo dell'arma aerea tedesca o comunque delle forze dell'asse dal 42 con le sconfitte nel 43 e poi nel 44 invece si approfondisce questo discorso appunto delle distruzioni e quindi del gangsterismo che trova il suo diciamo il punto culminante tutto attorno appunto alla vicenda di Monte Cassino sul salvataggio le immagini ufficiali tedeschi che portano la bate e tutti le reliquie in salvo eccetera eccetera così come poi anche il bombardamento del Vaticano di cui parlava ieri Umberto e Gentiloni e quindi tutto questo filone che appunto è proprio un leitmotiv fortissimo della propaganda si incrocia con la questione di Roma città aperta. Roma è al centro di due grandi appunto fatti propagandistici e quindi l'idea di Roma città aperta che si lega al salvataggio dalla barbarie ma è anche appunto una grande operazione di propaganda soprattutto visto che non era città aperta come come sapevamo come c'è stato anche ieri detto in più di una relazione e allo stesso tempo c'è il fatto che come dire la Roma è al centro di una grande operazione propagandistica degli alleati e sappiamo come il generale Clark forse il peggior comandante di teatro della seconda guerra mondiale che sbaglia una cosa dopo l'altra perché poi la propaganda diceva tante falsità ma su Cassino la propaganda italiana e tedesca diceva la verità cioè quelli inchiodati per mesi diciamo e così come sullo sbarco di Anzio diciamo non è non è non è non tanto lontano dalla realtà quello che dicono molti cinegiornali però il generale Clark compie una serie di mosse alcune sbagliate in funzione di che cosa di arrivare a Roma e poter celebrare diciamo la conquista della prima capitale dell'asse e peccato che poi quando arriva c'è un giorno e dopo lo sbarco in due giorni dopo lo sbarco in Normandia che oscura diciamo tutta questa sua operazione perché ovviamente comincia l'ultima grande campagna della guerra europea e quindi la liberazione pur della città eterna passa in secondo piano ma questi ultimi cinque minuti ovviamente perso un sacco di tempo che cosa vedevano i romani la ci sono molte sorprese su questo la in innanzitutto a Roma in questi in questi mesi non si continuano esserci tantissime prime e però di due tipi prime e prime tra virgolette e sono tra virgolette anche su nei lanci nei flani come si chiamano dei giornali perché perché appunto questo pubblico così esigente così che aveva necessità di vedere novità e che il grande bacino di film quello statunitense era stato diciamo prosciugato che poi non è vero perché molte memorie sappiamo che i piccoli esercenti di periferia spesso riproiettavano ma non potevano mettere in programma film americani diciamo non era un fatto che non succedeva e quindi abbiamo con cosa si sopperiva con tutti questi film soprattutto aumento la produzione italiana ma anche film soprattutto tedeschi ungheresi francesi spagnoli e anche svedesi svedesi tra l'altro una storia particolare ci sono quei tre film svedesi a carattere antisemita cioè c'è dentro poi queste vicende ci sono diciamo storie nelle storie che meriterebbero di essere raccontate e quindi sul fatto che degli ebrei non si parla però poi si proietta sull'ebreo i film antisemiti svedesi diciamo anche questa è un'altra è un altro aspetto che meriterebbe una relazione ma la dentro in queste tutte queste prime mentre film italiani abbiamo tanti film nuovi e anche un po di film tedeschi tra l'altro film francesi e film tedeschi interpretati da miliannis oppure c'è hotel du nord con gabbè nel porto delle nebbie cioè stiamo parlando anche di film a un certo livello però era tale la necessità di nuovi film che spesso queste prime tra virgolette erano film di dieci anni prima del 37 del 38 la film quindi che venivano editati per l'italia per la prima volta ma che in realtà non erano film nuovi e spesso i recensori con tutta diciamo la censura dicono è ma sto film è vecchio è un film insomma stesso messaggero c'è una recensione che attacca un film la e e qui ci sarebbe anche tutto il discorso su soprattutto la maggior parte dei film tedeschi e ungheresi che sono tantissimi e sul discorso dell'evasione diciamo se la propaganda non era credibile in una città che da gennaio sente i cannoni che sparano diciamo a poche decine di chilometri e in che modo questo cinema soprattutto con l'inglese tedesco con le operette con in un qualche modo che rapporto aveva con il vissuto e con l'identità delle persone ma anche questo appunto meriterebbe di essere discusso un filone molto divertente è quello dei film italiani sull'america che attaccavano l'america come harlem che è interpretato da fior fior di attori o come grattacieli film invece molto più in harlem c'era primo carnera e raccontava di un pugile che combatteva contro insomma in questo mondo americano visto come terribili la è interessante diciamo nella cosa nel quadro delle uscite dei film come appunto a febbraio quando dopo lo sbarco di ansio sembra che ormai sia finita che gli americani possano all'inizio di febbraio non escono più film tedeschi o film dei paesi collaborazionisti quindi gli esercenti e i distributori hanno un attimo diciamo di ma quando si capisce che come scrive il messaggero i tedeschi mantengono l'iniziativa a quel punto ricomincia come prima diciamo la e sto finendo un minuto e mezzo la e un e queste prime continueranno cioè l'ultimo film tedesco nuovo esce a roma il 25 maggio quindi una settimana prima delle della liberazione diciamo quindi proprio fino all'ultimo insieme a prima ancora tanti altri una vicenda curiosa e su questo vorrei chiudere e anzi due due fatti che mi sembrano significativi uno esce in italia ed esce sulla parigi la tragedia del titanico titanico detto alla tedesca un film che ha una storia c'è stato un documentario è stato fatto un anno e mezzo fa molto di vengono investiti risorse immense il regista viene fu viene arrestato e muore probabilmente fucilato in prigione che era un regista di grandi colossal nazisti il insomma questo film che belse dopo averci investito tantissimo non lo fa uscire in germania perché si rende conto che la tragedia del titanico poteva come dire essere una metafora della situazione della germania del 1944 ma esce invece perché questo c'è scritto nel suo diario diciamo questo dopo averci lavorato per due anni e attorno a questo film ma esce invece a roma e a parigi e lo potete vedere le pubblicità su tutti i giornali e c'è anche una foto con un manifesto per strada l'altra storia è interessante che mentre roma viveva questa questa vicenda e queste vicende vedeva questi film gli americani si stavano preparando e cominciando doppiando decine e decine di titoli che invaderanno i cinema romani e nei subito proprio dopo il loro arrivo tre quattro giorni dopo una truppe di attori italiani resta tra cui emilio cicoli che era il doppiatore se sentite la voce che aveva doppiato tutti i più grandi attori di hollywood resta bloccata in spagna con il 25 luglio allora arriva la fox acchiappa questi attori e li mette a doppiare in una sala di montaggio una quarantina di film americani e questi film vengono caricati sui camion e già un sette dieci giorni dopo che roma è liberata finalmente possono essere come era verde la mia valle casa blanca cioè film celeberrimi diciamo entrati è una vicenda molto molto divertente così come appunto il senso liberatorio il 4 giugno solo 5 6 cinema comunicano i loro programmi il al ai giornali ovviamente nel giornale liberazione ma già dal 5 giugno finalmente i cinema possono alcuni programmano dei film americani ma degli anni 30 che rimasti in magazzino ma un cinema può annunciare diciamo con grande enfasi verrà proiettato non c'è scritto che film ci sarà è uno dei sette cinema aperti il se non sbaglio riportato nel giornale verrà proiettato un film americano e con questa diciamo frase liberatoria questa lunga attesa del cinema cinema così come veniva intesa appunto anche lì c'era uno dei tanti aspetti della liberazione di roma e io ho finito grazie a ermanno taviani mi do la parola sul tema leggende romane nel senso che la liberazione di roma e realismo e narrazione fattuale eh di ciò che è accaduto ma anche immaginario eh false notizie veniva ricordata ad esempio da da ermanno taviani come lo sbarchi in sicilia scompare dei cine giornali luce scompare dei cine giornali luce ma ritorna soprattutto nelle false eh nelle false notizie sempre nel settembre del 1944 siamo a poco più di tre mesi della liberazione di roma la stampa della repubblica sociale riferisce che cito testualmente il partito comunista preleverà anche a roma un forte nucleo di ragazzi da inviare in russia per ricevere una completa educazione bolshevica la notizia eh rientra in quella campagna che era iniziata eh nel natale del 43 secondo la quale la eh l'avanzata degli alleati verso il nord comportava appunto la deportazione dei bambini italiani in unione sovietica per farne che per educarli al principio del del comunismo e farne delle cavie nei laboratori di sperimentazione eh umana c'è un materiale sterminato eh su questo la notizia era palesamente falsa palesamente falsa e rientrava in quella campagna volta a screditare gli gli alleati in particolare i sovietici l'unione sovietica ancorché eh non presente sul territorio italiano con le sue armate di soldati rappresenta però per la propaganda il mostro per per antonomasia anzi nell'immaginario degli italiani il comunista viene raffigurato come un residuo dell'orco eh primitivo eternamente evocato alla soppressione degli esseri umani e quell'immagine già presente nella propaganda nazifascista e fin dagli anni trenta viene enfatizzata all'indomani dello sbarco degli alleati direi che in questa cornice che significato storico simbolico di Roma è destinato a enfatizzare proprio questa questa immagine perché perché Roma è la capitale del cristianesimo la la sede del papato rappresenta sul piano civile eh l'eredità dell'impero romano ed è al centro proprio dai 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 giorni della liberazione di quello scontro nella propaganda ovviamente fra di quello scontro fra civiltà che caratterizza la contrapposizione fra Oriente e Occidente fra cristianesimo e ateismo fra capitalismo e comunismo e metterla al centro di quello scontro significa proprio per lo statuto speciale che 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 ha nell'immaginario ma non solo nell'immaginario Roma significa enfatizzare eh pericoli paure se voi andate a vedere ad esempio nella nella stampa della Repubblica Sociale c'è una eh proprio propaganda martellante eh se eh sul tema appunto se a liberare eh Roma fossero stati i russi e non gli americani se la Russia vincesse la guerra si legge in uno di questi giornali tutto il patrimonio spirituale del nostro popolo sarebbe preda immancabile del fanatismo slavo bolscevico che mai potrà perdonare la nostra Italia essere la culla della civiltà latina e del cristianesimo le conseguenze tragiche e immancabili ognuno di noi può valutarle Roma sarebbe stata liberata dall'esercito americano i russi non avrebbero mai messo piede nella città sacra però quella mancata eh profezia non smette di esercitare forze e suggestione nell'immaginario degli italiani tant'è che alcune delle più popolari leggende eh che prefigurano l'arrivo del comunismo hanno al loro centro proprio la capitale cioè una per tutte ricorderete la leggenda dei cosacchi che porteranno ad abbeverare i loro cavalli nella fontana di San Pietro o ce ne è c'è anche una versione laica nella fontana di eh di Trevi una leggenda eh che viene da lontano e che è stata rielaborata e la cui origine va va rintracciata nella appunto in una rielaborazione di una visione di donna eh di don Bosco e si tratta di leggende che eh trascinano la loro fortuna ben oltre i mesi della liberazione di di eh di Roma e soprattutto alimentano la 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 faziosità della guerra fredda eh perché perché in un contesto nel quale le pratiche contrastano con gli intendimenti dichiarati eh la psicologia della rivalità si riversa soprattutto nella creazione di tradici scenari nei quali la Russia e il partito comunista italiano continuano a rappresentare questa minaccia incombente eh sulla nostra nazione e più in particolare eh sulla capitale pensate ad esempio a tutti i manifesti eh che tappezzano la nostra eh penisola la vesiglia delle elezioni del 18 aprile e l'orco bolscevico nell'atto di distruggere l'altare della patria eh eh oppure l'arrivo dell'armata rossa è prefigurata da un comunista che con un balzo felino mette i piedi sulla eh sulla capitale della eh della cristianità ecco ehm molto felicemente la guerra fredda è stata definita la massima fiction dell'epoca da uno storico americano e proprio sul piano della fiction si 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 muovono alcuni racconti che escono alla visiglia delle elezioni del 18 aprile del 48 che hanno Roma al centro della loro attenzione e che prefigurano gli scenari di fronte a un'eventuale vittoria dei partiti della sinistra al conseguente avvento eh di un governo modellato su quello di eh di Mosca. Eh ci sono tantissimi racconti di fantapolitica ne cito uno solo è eh non votò la famiglia dei Paoli se è un racconto che viene distribuito in 250.000 coppie eh dalla democrazia cristiana alla visiglia appunto del 18 aprile. È firmata da due due eh impiegati del ministero degli esteri, Guccione Ranieri e Donato Martucci ma eh mentore di tutta l'operazione è eh Leo Longanesi che infatti fa uscire l'opuscolo per la sua casa editrice. E protagonista del romanzo che è scritto in forma epistolare è un professore, Gualtiero De Paulis, che è rappresentante di una media borghesia romana del tutto disinteressata alla alla politica. E il personaggio anziché recarsi a votare il 18 aprile periferisce una gitta con tutta la famiglia ai castelli, profittando appunto di una giornata eh di sole. Ovvio che è esplicita nell'opuscolo l'intento di sensibilizzare al voto quanti non sentono l'importanza eh di quelle elezioni. E eh in effetti questa eh diserzione delle urne eh da questa diserzione delle urne che cosa nesce? Nesce una vittoria del fronte eh popolare tant'è che scrive appunto in una di queste lettere immaginari uno dei protagonisti i cosiddetti rossi sono al governo a presiedere le Giuseppe Romita con Giuliano Paietta al Ministero dell'Interno il concetto marchese all'istruzione. Se inoltre è costituito il Ministero dell'Orientamento Popolare che al posto dei giornali in gran parte scomparsi ha istituito un servizio di quotidiani morali dove se hai la pazienza di starte in piedi nelle cantonate ci trovi tutto senza spendere un soldo. Eh Togliatti e Nenni sempre secondo questa eh ricostruzione fantastica non fanno parte di questa compagine governativa però eh suona la guida di quello che viene chiamato il partito unitario progressivo così si chiama aggiungi 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 al romanzo il fronte dopo la la fusione. Eh è uno dei tanti perché di 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 questi romanzi appunto di 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 fantapolitica c'è anche eh un curioso romanzetto lo strano settembre del 1950 nel quale si immagina eh Stalin che in occasione dell'anno santo viene a visitare San Pietro eh viene a confessarsi sotto mentite spoglie in un intreccio di di equivoci e eh situazioni satiriche ma è soprattutto Curzio Malaparte in storia di domani che eh immagina l'invasione eh dell'Europa, dell'Italia e di Roma eh da parte dell'Unione Sovietica e Malaparte racconta come a seguito di quell'invasione la classe dirigente politica italiana viene esautorata, esautorata e incarcerata. De Gasperi condivide la cella di Regina Cieli con Scelba, Benedetto Croce, Saragat eh Parri e Sforza sono tutti rinchiusi nel 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 manicomio di San Nicola. Eh diffidenti anche della classe dirigente comunista italiana i sovietici eh esigliano a Mosca personaggi come Terracini, Moscatelli, in carcerano di Vittorio, intellettuali vicini al partito comunista come Vittorino e Guttuso vengono impregionati e Lucchino Visconti a proposito di cinema viene costretto cito testualmente a far fin di propaganda spicciola che esaltano appunto il regime il regime sovietico. Eh Pietro Nenni vive nascondendosi per le vie di Roma eh Randolfo Pazzardi fa il il lattaio eh all'unità viene cambiato nome in glumiltà e bandiera rossa eh viene proibito. Insomma riferisce De Gasperi eh in un colloquio con Scelba i comunisti italiani da quando sono venuti i russi non contano più nulla. Insomma eh eh ah ecco cosa importante questo il papa è prigioniero dentro le mura vaticane. È prigioniero dentro le mura vaticane protetto da una siepe di fil di ferro da un cordone di soldati sovietici. Eh certo le autorità sovietiche eh cercano di convincere più dodici a a percorrere in sede gestatoria le strade di Roma per eh rassicurare l'opinione pubblica eh internazionale sui rapporti di cordiale amicizia fra l'Unione Sovietica e il Vaticano. Il papa si si rifiuta tant'è che i sovietici che cosa fanno? Mandano una controfigura per le strade di Roma. Eh i romani se ne accorgono eh assaltano la serie gestatoria e picchiano appunto il il falso il falso papa. La cosa più curiosa è l'onomastica. Tutta l'onomastica viene cambiata per le vie di Roma. Il ponte Cavour viene ribattezzato Molotov. Corso Umberto cambia il nome in prospettiva Giuseppe Stalin e via Veneto in via Stalingrado. I parioli vengono rinominati Stakanov per ribadire appunto la nuova etica del lavoro degli occupanti russi. Via Tomacelli cambia in via Zdano, via Condotti via Voroshilov, piazza Colonna, piazza Carlo Marx, piazza San Lorenzo in Lucina, in piazza Mikoyan. Ed è proprio nella piazza intitolata uno dei più stretti collaboratori di Stalin che Malaparte descrive eh come in una legge del contrapasso un gruppo di giovani un tempo un tempo erano appartenuti alla la migliore borghesia romana che per pagare la colpa del loro passato eh il loro passato pochi in sintonia con lo stile di vita comunista eh sfilano travestiti da eh da donne. Eh non è solo la fanta politica ma sono anche racconti dall'impianto realistico a profetizzare l'arrivo dei sovietici. Un articolo ad esempio su questi temi è sempre longanesi ma anche Giovanni Ansaldo e proprio Giovanni Ansaldo eh pubblica con lo pseudonimo di Giovanni Bubani sono sempre su una rivista di di longanesi che si chiamava Il Libraio eh un articolo che si titola appunto Occupazione Russa e così commenta un manifesto comparso per le vie di Roma alla vigilia dell'elezione del 18 aprile. rappresenta la tipica famiglia piccolo borghese papà mamma il maschietto la bambina raccolti in un tinello graziosamente ammobiliato sotto la luce della lampada. Questa scenetta è la quintessenza di ciò che la civiltà occidentale è materialmente assicurata agli uomini cioè la possibilità di chiudersi nella propria casa con la certezza che nessun estraneo può spalancare le porte e di mangiare il proprio pane coi propri figlioli. Sotto il manifesto continuava in saldo c'era scritto votate per il partito socialisto italiano cioè votate per un partito che esalta il modo di vivere russo e se occorre l'arrivo in Italia come occupanti dei soldati russi. Qualche anno fa Luciano Cafagna ha preso in esame l'eventualità che Togliatti fosse morto in seguito all'attentato subito da Appallante il 14 luglio del 48 e secondo questa ricostruzione virtuale Cafagna riteneva che pur in presenza di non poche tensioni ribellistiche all'interno del periodo comunista italiano la morte di Togliatti non avrebbe comportato cito testualmente catastrofi sistemiche e che la democrazia italiana sarebbe sopravvissuta e se alla morte del leader comunista la leadership delle sinistre prosegue Cafagna fosse stata segnata a Pietro Nenni in quegli anni il confronto politico che ne sarebbe seguito sarebbe stato improntato conclude Cafagna a regola di reciproca convivenza. Questo di Cafagna è un intervento che si afferisce in quel filone della storia con i sé definita appunto storia anche storia controfattuale o possibile. Resta il fatto che l'interpretazione di Cafagna appartiene appunto agli anni recenti, 5-6 anni fa, mentre nella seconda metà degli anni 40 i resicuranti scenari della storia con i sé erano sostituiti dal catastrofismo di quel filone di fantapolitica che prefigurava la capitale del cristianesimo invasa dal comunismo sovietico. Un filone che si scrive in un genere letterario ma che interpreta leggende e paure che sono presenti nell'immaginario dell'italiano e condizioneranno non poco la battaglia politica negli anni seguenti alla liberazione di Roma. Grazie. Bene, la parola ora Rosalba Biasini, Roma città aperta nel cinema e nella letteratura da Rossellini a Morante. Grazie, mi metto anch'io un riferimento. Io ho scelto di circoscrivere in realtà il mio intervento solo alla storia di Morante. Per questioni sì di tempo ma anche per i molti spunti che, come spero di dimostrare, sono offerti da questo testo. Il romanzo ha da sempre diviso la critica ed è uscito nel 1974, quindi festeggia anch'esso un importante anniversario. E Morante, uscita poi anche nei successivi momenti di riflessione, ha definito il suo libro un'azione politica, un atto di accusa, infine anche una preghiera. Volendo rivendicare con queste definizioni non la pretesa di raccontare una verità storica, universale, assoluta, ma certamente la volontà di denunciare il funzionamento della storia, il comportamento che la storia ha nei confronti dei più umili, di quella che lei chiama la folla, degli individui che ne restano poi intrappolati. E per citare la stessa Morante, ogni società umana si rivela un campo straziato dove una squadra esercita la violenza e una folla la subisce. Ma il fatto che questo male sia sempre esistito non è un motivo che gli dia il diritto di esistere. Occorreva allora qualcosa di molto diverso, forse uno straordinario sacrificio individuale e collettivo. L'intento quindi è rappresentare con il romanzo questo sacrificio, il sacrificio collettivo ma anche individuale appunto, degli umili, di cui la storia non si preoccupa. Nell'irreggere allora alcuni passi con voi della storia e soprattutto in questa occasione vorrei tenere conto di questo dato, del fatto che nel libro si mescolano la grande storia e la storia invece più piccola, le storie individuali che poi sono molte in questo romanzo che è stato definito anche corale. E vorrei però seguire soltanto un filone di queste storie, quello cioè dei protagonisti, Ida e suo figlio Useppe, e delle vicende appunto che li trovano ad incontrarsi con la storia. E per la mia analisi vorrei tenere conto non solo di questo filone, cioè del tempo, di come la storia, la vita, dice Morante stessa, si intrecci con la storia, ma soprattutto anche come questa storia si prenda sempre spazio in un determinato scenario, quindi in una geografia, che è quella appunto, soprattutto per la storia in particolare di Ida e Useppe, la città di Roma, la Roma che abbiamo visto in questi giorni nei mille suoi aspetti del periodo della guerra, la Roma città aperta, la Roma bombardata, la Roma occupata, infine la Roma liberata e poi nel susseguirsi poi delle vicende di Ida e Useppe, la Roma post bellica. Da un punto di vista appunto del tempo, chi conosce il testo sa che è diviso in anni, quindi ogni anno dà una sorta di titolo ad ogni parte, seguito poi da capitoletti che riflettono su quella che dovrebbe essere la grande storia. Sono capitoletti in realtà scelti e possono anche riflettere su argomenti non necessariamente coinvolti poi nelle vicende dei singoli che vengono poi raccontate e in questo modo quindi non creando fratture con i veri eventi, i grandi eventi della storia, ma rappresentando le storie individuali da un punto di vista appunto del fluire degli anni, non si creano fratture che abbiano appunto, che mettano davvero le vite degli individui in confronto diretto con la storia, vi spiegherò meglio. La vita di Useppe comincia in realtà proprio per un evento storico perché nel 1941 uno di quei soldati tedeschi di cui si parlava ieri, semi turisti che con il fucile che appunto si trovano per Roma, diceva Lutz Klinkham, un giorno di gennaio questo soldato si trova a San Lorenzo e confonde anche un po' da un punto di vista storico-geografico il quartiere con le bellezze di Roma, confonde il verano con le tombe dei Cesare e dei Papi, scrive Morante, e quindi a un certo punto si incontra con Ida e come è noto le userà a violenza. Regalandole però tutto sommato la gioia e poi anche il dolore che ha l'esperienza di avere Useppe, un bambino entusiasta, desideroso di vivere, che non riesce a vivere nello spazio circostritto in cui lo relega la madre, ma decide quando possibile, grazie al fratello eroe mitico Nino, a scappare nella scoperta appunto della città. Euseppe scopre un mondo in questa Roma martoriata dalla guerra che per lui è favoloso in quanto nuovo e scrive Morante, quel mondo e quella popolazione, poveri, affannosi e deformati dalla smorfia della guerra, si spiegavano agli occhi di Giuseppe come una multipla e unica fantasmagoria. Per tutta la strada Giuseppe non faceva che ridere. E tutto preso da questa sua scoperta del mondo, Giuseppe è ignaro della storia, come è giusto che sia per un bambino di quell'età, che tormenta invece le notti della madre e della piccola famiglia, che in quegli anni, in quei mesi, cominciano a dover frequentare i rifugi antiaerei. Perché se è vero che all'inizio, parlando a proposito di leggende, scrive Morante, le notizie di altre città italiane bombardate non rimuovevano i romani dalla loro passività fiduciosa. Convinti che Roma fosse città santa e intoccabile, i più lasciavano passare all'armi e fragore senza muoversi dai loro letti, è quello di cui parlavamo anche ieri. E quindi invece in realtà poi queste certezze per cui Roma verrà risparmiata vengono sempre più o meno, per cui a un certo punto dovranno frequentare questi rifugi antiaerei. Finché ad un certo punto, appunto in clima di bombardamenti, si arriva a un altro drammatico incontro di Ida e Euseppe a questo punto con la storia, che è la perdita della casa nel bombardamento dell'estate a Roma nel 43. Questo evento viene presentato in una normale mattina in cui Ida, come al solito, va a fare la sua spesa. Tornando a casa, leggo Morante, uscivano dal viale alberato non lontano dallo scalomerci, dirigendosi in via dei Volci. Quando? Non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d'orchestra metallico e ronzante. Euseppe levo gli occhi al cielo e disse, gli oblari. In quel momento l'aria fischiò, mentre già un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava di intorno a loro, sminuzzato in una mitaglia di frammenti. Al cessato allarme, San Lorenzo non ci riconosce più, è estraneo, alieno, finché scorrono a un certo punto le varie strade non più familiari e vedono che la casa davvero è stata distrutta. Le riflessioni di Ida a questo punto ovviamente riflettono sulla sua condizione individuale, soprattutto sul fatto che ormai con la perdita della casa si sono perse le certezze. E mentre Euseppe piange il cane, Blitz, che è ovviamente rimasto nella tragedia della casa, Ida si affida a delle riflessioni. Blitz era perduto, insieme con il letto matrimoniale, il lettino, il divano letto, la casa panca, i libri squinternati di rinuzzo, il suo ritratto ingrandimento e le pentole di cucina, il tessilsacco di cappotti riadattati e le maglie d'inverno e le dieci buste di latte in polvere e i sei chili di pasta e quanto restava dell'ultimo stipendio del mese. Un accumulo, anche da un punto di vista stilistico, di cose quotidiane ma assolutamente necessarie di cui bisognerà fare a meno. Quindi davvero lo spartiacque in questo 43 per Ida e Euseppe, non sono poi gli eventi storici che seguiranno, ma la perdita della casa, quindi il privato, se vogliamo. Tant'è che poi Morante, nelle pagine che seguono, elenca quasi in un riassunto i grandissimi eventi che seguono questo avvenimento. Il 25 luglio il Duce era stato riposto, il 45esimo giorno, che fu l'8 settembre 1943, gli alleati anglo-americani, padroni ormai di gran parte del sud Italia, avevano segnato un armistizio con governanti provvisori. Un armistizio, voci lontane, ed è così davvero che la storia arriva ad Ida, le arrivava tramite commenti dei colleghi, le arriva tramite la propaganda del figlio, le arriva sempre un po' distorta, un po' come qualcosa che è più lontano. Le arrivano anche notizie dell'esercito disgregato, della formazione della Repubblica di Salò, di Roma rimasta senza governo e ormai in preda all'occupazione dei tedeschi. Durante questi avvenimenti, Ida e Giuseppe continuano a vivere come sfollati in una stanzione di pietralata, quindi c'è anche una nuova scoperta di una nuova parte di Roma, che è la borgata e che per Ida era in realtà un mondo quasi sconosciuto. Quello che anima il suo pensiero fondamentale in questo momento è certamente la caccia al cibo, la sopravvivenza, mentre ritorna anche Nino, il figlio più grande, che invece si è fatto partigiano e che appunto nello stanzione di pietralata incontrerà due compagni poi i suoi di lotta, Giuseppe II il Matto, che morirà torturato, e Carlo Vivaldi o Davide Segre, che userà anche la rivolta, diciamo la sua, la guerra come una rivolta personale, come una vendetta privata e da cui resterà particolarmente segnato. In tutto questo, scossa dagli eventi che l'hanno colpita dalla mancanza sempre più acuta di cibo e di tutto quello di cui ha bisogno, anche e soprattutto per crescere il bambino, Ida non riesce a rimuovere le sue origini e soprattutto pensa alla madre ebrea e questo diventa un pensiero dominante per lei e la spinge sempre più a richiamarsi al popolo ebraico e a visitare spesso il ghetto, sia prima che dopo la deportazione. Ed è una spinta quasi che vuole riportarla ai ricordi dell'infanzia, la vuole quasi avvicinare alla madre perduta, ad un popolo per sentirsi parte probabilmente di qualcosa in questo momento di spaesamento. Il ghetto, scrive Morante, è un piccolo quartiere assediato, popolato di animali segnati. Ma la ricerca di questo popolo va, Ida, perché si sente appunto, si vuole sentire in realtà quasi accolta e fino appunto ad arrivare ad osservare, a testimoniare, lei piccola appunto elemento della storia, la partenza di un treno piombato. Ma davvero, fino a non capirne davvero il senso. Lei rimane un elemento non importante della storia. Scrive Morante, della presenza di Ida, che rimane lì appunto a guardare il treno che parte senza capire, senza poter fare, rimasta un poco indietro al limite della rampa, non si interessava ancora nessuno. Lei non importa, ma non solo. E lei pure sarà quasi smemorata di se stessa, non capiva neanche più cosa stava testimoniando, perché, perché era lì. a questi eventi segue poi il ritorno al suo lavoro di maestra, un nuovo spostamento e così una nuova scoperta dello spazio di Roma. I Deuseppe si trasferiscono al Testaccio, un nuovo quartiere, tutto appunto da scoprire. Il Testaccio era, scrive Morante, non un quartiere di periferia come San Lorenzo, benché abitato anch'esso in prevalenza al ceto operaio e popolare, solo poche strade lo separavano dai quartieri borghesi. E i tedeschi, che di rado frequentavano Pietralata e il Tiburtino, qua si incontravano più numerosi. La loro presenza trasformava per Ida il percorso quotidiano in una pista rotante, dove lei stessa, bersaglio e risorio, era segnata da fari, seguita da passi di ferro, accerchiata da segnali uncinati. Davvero il sentimento di Ida in questa Roma occupata è un sentimento di animale in trappola, si sente continuamente perseguitata, cerca anche forse motivazioni di questa persecuzione e non riesce davvero a liberarsi da questa tensione, come giusto che sia. E ancora Morante racconta questi ultimi mesi dell'occupazione tedesca di Roma, descrivendo una città quasi spettrale. Negli ultimi mesi dell'occupazione tedesca, Roma prese l'aspetto di certe metropoli indiane, dove solo gli avvoltoi si nutrono a sazietà e non esiste nessun censimento dei vivi e dei morti. È una città fatta di parchi pubblici dove pascolano pecore e vacche denutrite, dove nonostante la dichiarazione di città aperta le truppe tedesche si accampavano intorno all'abitato, fatta di alberghi di lusso requisiti dai comandi del Reich e guardati da picchetti armati. E in questo clima cominciano a girare altre notizie, altre leggende su una ipotetica distruzione dell'intera Roma. Si diceva che i tedeschi prima di abbandonare la città l'avrebbero fatta saltare tutta intera dalle fondamenta. E con questo appunto, questo è un altro esempio di come le notizie della guerra, vere o meno, arrivino ad Ida. Ma Ida nella sua riflessione personale non può che pensare alla dimensione individuale, alla sopravvivenza del suo bambino e di se stessa. E il suo pensiero non può che essere che Roma fosse tutta minata e domani crollasse, la lasciava indifferente, quasi un ricordo già remoto nella storia antica o un'eclisse di luna nello spazio. L'unica minaccia per l'universo si rappresentava a lei nella visione recente del figlietto che aveva lasciato a dormire. Davvero l'unico pensiero di Ida, la sopravvivenza di questo bambino. E ovviamente la preoccupazione più importante è quella della fame e mettendo da parte ogni timore, ogni vergogna, Ida partecipa alla rivolta della fame, quindi accetta cibo quando viene distribuito dai tedeschi, ruba prima un uovo, poi si spinge più là a rubare qualcos'altro, partecipa a un saccheggio di un camion tedesco. E poi arriva davvero la liberazione, che è un evento così sperato, così atteso, così aspettato, che in realtà finisce per arrivare in un momento normale, in un giorno qualsiasi. La sera del 4 giugno, scrive Morante, per la mancanza della luce elettrica tutti si coricarono presto, il testaccio era calmo sotto la luce lunare e nella notte gli alleati entrarono a Roma. D'improvviso si levò un gran clamore per le strade, come fosse Capodanno, una grande festa. Le finestre e i portoni si spalancarono, si incominciarono a sciogliere le bandiere, non c'erano più tedeschi nella città. È un clima ovviamente di festa per molti, è un clima, un momento che è stato molto atteso, ma che in realtà nella economia della storia di Isa e Useppe non si rivela tale, lo vedremo. Subito dopo, in poche righe, Morante ricorda anche la caduta del Reich, la resa della Germania, la rovina di Berlino e il modo in cui la visione del sognatore Mussolini era svanita in fumo. Dicevo, questo momento di felicità, se vogliamo, per la popolazione per Ida e Useppe corrisponde a un nuovo spostamento e in realtà a un momento di tragedia. Mentre Nino e Davide si perdono per motivi diversi alla fine della guerra, i De Euseppe sono sopravvissuti. Sono sopravvissuti alla guerra e sono sopravvissuti alla storia, ma ne sono rimasti feriti a morte come molti altri, soccombendo perciò ad una fine che si potrebbe, per così dire, chiamare privata. Come nota Cesare Garboli, la fine della guerra allora non porta nessuna euforia nel romanzo, anzi lo trasforma in un romanzo di morte. Quel reticolo di storie dentro la storia scompare. Alla fine della guerra la scena si svuota e rimane una solitudine. In questo momento di profondo dolore e depressione in cui si ritrovano soli, quindi un momento non di gioia, Giuseppe comincia ad avvertire sempre più frequenti i segni del suo male che lo porterà appunto alla sua fine, Giuseppe scopre anche un nuovo posto magico in cui sfuggire con la nuova cagna bella, un posto verde a meno che è pieno di speranze e richiama forse quei luoghi delle fughe all'inizio della sua vita e all'inizio del romanzo in cui già in periodo di guerra, ma in un periodo più felice della sua vita, faceva la scoperta del mondo. Una scoperta del mondo che è desiderio di vita, felicità della vita, che sopravvive alla storia, ma che deve comunque, come si era anticipato, cedere alla tragedia umana individuale. Vorrei allora concludere pian piano dicendo che il suo conto dimorante, come lei stessa aveva detto, è certamente una riflessione sulla storia che è fatta di piccole storie individuali e che però ha un dato universale, che è appunto quello per cui tutti, tutti gli individui che ne restano intrappolati, ne soffrono e per un motivo o per l'altro ne subiscono le conseguenze. Il racconto di Morante è il racconto di una testimone reale della guerra e della storia. In realtà sappiamo, l'abbiamo detto anche in questi giorni, un testimone non è sempre obiettivo, ma non vuole parlare di obiettività Morante, vuole in realtà testimoniare questa volontà di obiettività nei confronti di come la storia tratta gli individui e sceglie ad esempio appunto alcune storie individuali che nella loro unicità rappresentano però un'universalità di trattamento della storia. Concludo allora leggendovi un pensiero che riassume questa riflessione della stessa Morante. Col presente libro io, nata in un punto di orrore definitivo, ossia nel nostro secolo ventesimo, ho voluto lasciare una testimonianza documentata della mia esperienza diretta, la seconda guerra mondiale, esponendola come un campione estremo e sanguinoso dell'intero corpo storico millenario. Eccovi dunque la storia, così come è fatta, così come noi stessi abbiamo contribuito a farla. Grazie. Allora la parola è a Lidia Piccioni, vita in tempo di guerra, la popolazione romana tra occupazione e liberazione. Grazie. Ma dunque, vita in tempo di guerra, all'interno della storiografia sulla seconda guerra mondiale è direi dalla prima metà degli anni Ottanta che è emersa sempre di più una crescente attenzione per il cosiddetto vivere nella guerra del fronte interno e cioè per la quotidianità delle popolazioni civili che sono state appunto profondamente coinvolte, come abbiamo appunto adesso sentito, da quella che infatti è stata definita la guerra totale per definizione, la seconda guerra mondiale. Ora, in questo ambito di attenzione appunto per il vivere nella guerra è soprattutto negli ultimi vent'anni che anche per Roma si è venuta proponendo con forza una fonte nuova non per tipologia ma per quantità di produzione e cioè quella delle scritture private dei protagonisti, le cosiddette scritture non professionali. Che cosa sono? Sono i diari, le memorie, gli epistolari che si sono moltiplicati, io direi tra la metà degli anni anni 90 e la prima metà del nuovo appunto 2005-2006. Si sono moltiplicate sia proprio come produzione, cioè come quantità di memorie che vengono continuamente scritte, sia anche come consegna alle istituzioni deputate alla conservazione di diari che ovviamente erano stati già fatti ma che però venivano conservati nelle case e che adesso invece sempre di più emergono all'attenzione anche degli studiosi e comunque del pubblico. Tutto questo sta facendo della memoria sicuramente una chiave di entrata sempre più essenziale per chi voglia appunto entrare in questo tipo di tematiche ed è appunto attraverso questa chiave di entrata che io vorrei ripercorrere sia pure molto velocemente quei mesi del 43-44 a Roma. L'ho fatto grazie in particolare alla enorme mole di diarie di memorie non professionali appunto conservate presso l'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano che come sappiamo conserva questo tipo di documentazione dal 1984 grazie a Saverio Tutino che l'ha immaginato e poi diretto fino alla sua morte. E a questo diciamo scandaglio sistematico all'interno del patrimonio conservato da Pieve Santo Stefano ho aggiunto diciamo un'incursione meno sistematica ma il più possibile insomma ad ampio raggio sulla fittissima produzione invece come dicevo a stampa perché l'altra cosa che ha caratterizzato gli ultimi anni è che grazie anche alla tecnologia ormai sempre più diciamo semplice sempre più a portata di tutti molte di queste memorie o dei diari appunto ritrovati vengono pubblicati e vengono a volte pubblicati proprio a livello diciamo familiare improprio però anche con degli esiti grafici interessanti dovuti proprio appunto al cambiamento no degli ultimi anni della possibilità di stampare e di produrre lavori graficamente significativi. Ora ieri a fine aggiornata nel diciamo nel dibattito della fine della giornata e accennavo al fatto di come a mio avviso e questa diciamo la fatidica diciamo ormai data dell'89 cioè la caduta del muro di berlino ma poi soprattutto la conseguente caduta e dei partiti tradizionali e con loro soprattutto dei valori consolidati e ufficialmente condivisi abbia portato con sé una sorta di liberazione della memoria soprattutto nelle persone comuni nelle persone normali che una liberazione della memoria che ha consentito di affrontare nel ricordo temi come per esempio le tante no le multiple strade della scelta di quei nove mesi che è stato un tema importante ieri o anche per esempio il rapporto con gli attori su questo teatro e quindi sicuramente con i partigiani e con gli alleati ma anche con i tedeschi e con i fascisti ecco diciamo che questa sorta di appunto liberazione della memoria cioè possibilità di dire nel momento che i paletti forti no condivisi cominciano ad allentarsi e permette di usare questi documenti come una fonte preziosa appunto su questioni spinose che fino a poco tempo fa era molto difficile indagare e su cui era difficile entrare ma sono i temi appunto che sono stati affrontati nella giornata di ieri e invece oggi appunto il mio compito è quello di parlare della vita quotidiana e quindi torniamo invece alla vita quotidiana cosa ci raccontano queste fonti della memoria rispetto alla vita quotidiana romana nei nove mesi dell'occupazione e poi nei mesi subito successivi della liberazione alleata innanzitutto ribadiscono le tre grandi i tre grandi contenitori di lettura di quei mesi che sono diciamo contenitori che da tempo ovviamente chi studia questo quel periodo mette mette sul tappeto cioè innanzitutto primo posto la fame poi la paura e poi l'attesa e adesso vedremo cosa vogliono dire diciamo nel nello specifico queste tre categorie e naturalmente a questo si aggiunge la presenza importantissima della chiesa istituzione sostitutiva per tutta la realtà italiana ma naturalmente in modo prioritario per la città di roma ed è stato un altro tema molto analizzato ieri e quindi non mi ci fermo ma grazie quindi fame paura attesa ma grazie agli sguardi di persone qualsiasi che sempre di più appunto ci troviamo davanti in questa documentazione e quindi ai loro racconti sempre più piccoli no di una quotidianità minuta quello che si rende possibile è proprio di diciamo smontare queste categorie e in base alle varie componenti sociali e della città di roma e elemento spesso intrecciato che si sovrappone alle varie componenti spaziali della città cioè ai luoghi no diversi della città cosa emerge con grande evidenza da queste pagine emerge che ci troviamo davanti all'immagine di una città con dei fortissimo distinguo interni e con degli enormi dislivelli appunto di tipo e di qualità della vita in come diremmo noi oggi interni questo concetto era stato già detto addirittura negli anni 70 no con grande precisione con grande acutezza da forcella che ha un po proprio inventato questa categoria di roma arcipelago durante i nove mesi dell'occupazione però ripeto questo tipo di fonti insieme a altre naturalmente però con queste fonti ci si riesce a entrare bene e ci permettono questo arcipelago di definirlo meglio di ripeto di smontarlo anche in pezzetti più piccoli e vediamo innanzitutto le divisioni sociali noi partiamo dalla parola ripeto magica nel senso che chiunque sia nella memorialistica scritta che tanto più nelle fonti orali è la prima cosa che ti dice la fame che fame avevamo ti dicono tutti no chiunque ha dei genitori che hanno fatto la guerra a roma per me era così con la mia mamma sa che i frigoriferi dopo sono sempre stati strapieni no proprio come continuazione di questa grande fame appunto invece ovviamente disinnescata diciamo poi nel dopoguerra quindi fame e cibo e a questo problema della fame del cibo quello della carenza progressiva dei servizi acqua luce gas che ovviamente rendono la vita quotidiana faticosissima soprattutto alle donne che sono quelle che devono evidentemente sostenerla ma per le classi alte della città chi sono le classi alte a roma anche ovviamente famiglie nobiliari molte no e poi alti alti funzionari dello stato e poi ovviamente tutto il bacino delle dei professionisti e ecco le classi alte diciamo sembrano come galleggiare all'inizio su tutto questo anche se nelle loro memorie nei loro diari noi troviamo certo l'affanno di una vita che si fa difficile però diciamo troviamo anche per esempio il racconto di te a case delle amiche no il pomeriggio consideriamo che le memorie sono quasi sempre memorie femminili in prevalenza memorie di donne troviamo le rosticcerie usate no per sopperire alla mancanza di gas sembra quasi la battuta delle dei croissants no della della rivoluzione francese non c'è il gas allora va di rosticceria e appunto nei diari di questo tipo di classi sociali le rosticcerie sono importantissime e poi naturalmente troviamo le domestiche mandate loro a fare la fila le fontanelle per prendere l'acqua quando l'acqua manderà e poi tutto questo no troviamo un sacco anche di piccole golosità no cioè diciamo l'unico elemento è che lo vanno cercando affannosamente tutte queste cose e dove le vanno cercando al mercato nero il mercato nero che ovviamente impera immediatamente nella realtà romana e i cui prezzi noi troviamo elencati giorno per giorni nei diari e nelle memorie soprattutto nei diari ovviamente per dire quanto è importante però è un mercato nero a cui loro possono accedere anzi alla fine il problema è quasi contrario cioè non sanno come spendere i soldi no cioè c'è troppa poca roba e quindi non hanno la possibilità di spendere i soldi a fianco di questa classe sociale che però è molto ristretto ovviamente è una fetta piccola della città poi abbiamo i cetimedi famosi cetimedi romani gli impiegati che pure ricorrono anche loro al mercato nero però a prezzo di dare via tutte le loro cose più care si vendono i corredi si vendono i regali di nozze si vendono gli oggetti mobili importanti della casa e soprattutto abbiamo donne sempre più costrette ad abdicare diciamo al loro ruolo di signore borghesi che difendevano con le unghie con i denti no con uno status piccolo che però era molto sottolineato e che invece a questo punto sono chiamate a supplire in tutti i modi alle carenze della vita quotidiana soprattutto nello sforzo di continuare a dare una sensazione di normalità ai figli per cui abbiamo per esempio scarpe vestiti letteralmente inventati dal nulla no abbiamo completini per la prima comunione e piccoli buffet per la prima comunione anche questi radunati non si sa come però fatti per cui appunto si continua a fare la prima comunione no si continua una vita normale questo era anche un elemento che ieri era molto emerso cioè si continua a fingere normalità e a fare i salti mortali per poterla fingere e con se stessi e con i bambini un elemento interessante di questo tipo di diari è soprattutto di questa classe sociale e soprattutto la vita dei dipendenti pubblici roma come sappiamo in questi nove mesi e per l'unica volta nella sua storia millenaria non è una capitale i ministeri si trasferiscono al nord insieme a salò e tutti i dipendenti appunto fanno anche qui i salti mortali per cercare invece di restare a roma ma continuando ad avere lo stipendio allora l'escamotage più semplice è quella dell'ufficio stralcio e si inventano in continuazione uffici stralcio da tutte le parti ma le strade sono tante e queste memorie appunto ce le raccontano bene e poi abbiamo naturalmente invece i ceti più modesti il popolo no il popolo romano che invece precipita da subito nell'indigenza anche perché viene da anni già durissimi no la vita già negli anni trenta è una vita durissima per le popolazioni appunto della città e immediatamente poi la guerra e quindi a questo punto siamo veramente al fondo e all'inizio le ricerche di cibo vengono fatte nei paesi di origine roma al 36 aveva un milione di abitanti questo milione di abitanti veniva in gran parte come immigrazione dai paesi intorno dal lazio dall'ex stato pontificio quindi molti ripercorrono all'indietro no la loro immigrazione a roma per poter andare a cercare del cibo però poi alla fine anche questo diventa sempre più difficile i tedeschi controllano sempre di più e quindi diciamo veramente i racconti di questo tipo di ambienti ci descrivono una specie di ritorno a una vita premoderna soprattutto diciamo nelle borgate non ufficiali si è ridotti a mangiare le bucce le erbe dei fossi e quando poi a primavera appunto mancherà l'acqua l'acqua loro la vanno a raccogliere nella campagna nell'acqua corrente della campagna nelle piccole diciamo sorgenti no che ancora sono nella campagna intorno a roma quindi è veramente una dimensione no quasi barbarica diciamo della vita ecco quindi qual è il punto che cambia da ceto a ceto la percezione dell'essere in guerra la data di quando comincia la guerra in quasi tutti i diari in quasi tutte le memorie c'è un momento in cui dicono ecco adesso davvero c'è la guerra allora questa percezione fino a natale in realtà una parte della città i ceti medio alti la sentono fino a un punto certo hanno l'affanno hanno la preoccupazione però hanno una vita è quasi normale poi invece dalla primavera diciamo dallo sbarco degli alleati e poi appunto al venire meno di questi servizi tutti sembrano come confluire verso un imbuto sempre più stretto sempre più omologante però anche all'interno di questo imbuto fino al 4 giugno abbiamo racconti di partite a bridge con i pasticcini offerti sempre alle amiche abbiamo mazzolini di mughetti regalati per i compleanni cioè le cose chi può le trova ancora anche se in modo ovviamente sempre più rocambolesco mentre il resto della città veramente precipita no nella diciamo nella necessità assoluta quindi cosa abbiamo abbiamo delle narrazioni diverse in modo molto impressionante a seconda dei vari narratori sia come dicevo per ceto sociale ma anche moltissimo per spazio e lo spazio appunto i ceti si intersecano perché perché gli anni 20 e 30 sono quelli in cui il regime fascista avvia davvero la zonizzazione della città cioè la divisione della città per aree sociali e e allora la prima divisione proprio essenziale è tra il centro e tutto il resto chi vive nei quartieri nelle borgate parla tra l'altro oltre che della fame ovviamente del continuamente dei bombardamenti no delle sirene ieri l'abbiamo visto bene dei bombardamenti si è parlato tanto dopo il famoso bombardamento del 19 luglio ci sono altri 50 e più bombardamenti sulla città ma sono tutti nella fase nella parte periferica no nei quartieri periferici e quindi chi abita lì o ha la casa davvero distrutta o comunque ha paura e quindi tende ad andarsene ma dove vanno non vanno via da roma come nelle altre città no dove c'è lo sfollamento delle città vanno al centro la mattina noi molti racconti si prende le donne prendono baracche burattini e se li portano sotto il colonnato di san pietro i bambini gli anziani no si mettono lì con le sedie ci sono le foto sembrano dei picnic praticamente passano la giornata sotto il colonnato di san pietro oppure nelle sagrati delle grandi basiliche no e poi la sera tornano a casa e perché perché il bombardamento di san lorenzo era stata le 11 e quindi è la mattina il momento che fa veramente paura no e comunque quando ovviamente c'è la luce diciamo per bombardare e e quindi abbiamo questo continuo flusso giornaliero periferia centro periferia centro il centro è il luogo separato e salvifico della città protetto da questo no diciamo ombrello immaginario che è la cupola di san pietro e le cupole di tutte e di tutte le basiliche e chi si deve proprio trasferire perché l'ha avuto la casa buttata giù dai bombardamenti e magari ha la fortuna di avere un parente al centro racconta stupefatto come durante gli allarmi le persone che vivono al centro non fanno una piega continuano a vivere tranquillamente neanche si preoccupano e chi viene dalla periferia che invece aveva quest'ansia continua è veramente allibito davanti a questo stacco a poche non dico neanche chilometri a poche centinaia di metri quasi di distanza ecco quindi se dobbiamo parlare della paura e della morte la paura e la morte è ci viene solo da una parte della città è come avere le voci di due pianeti separati completamente da questo punto di vista e poi c'è l'attesa l'attesa di cosa degli alleati naturalmente che la guerra finisca e che tiene come sappiamo la città sempre sulla corda all'interno dell'attesa abbiamo due grandi categorie in generale sono state già analizzate dalla storiografia e che però in questo tipo di fonti tornano tantissimo e cioè abbiamo chi agisce cioè chi in quel momento fa decide di fare fa delle scelte di azione anche se fra mille dubbi è ovviamente tanto più tra mille pericoli e chi invece è agito cioè chi la guerra è proprio gli passa sopra no e sono ovviamente la maggior parte delle persone ecco in questo caso la divisione tra chi agisce chi è agito invece trasversale attraversa tutte le classi sociali e attraversa tutti gli spazi della città in realtà nelle borgate si agisce tantissimo per esempio quello che è spazio di abbandono diventa spazio di libertà in questo caso ovviamente e si agisce molto come sappiamo ieri se ne è parlato anche ovviamente al centro dove abbiamo poi il cuore no dell'organizzazione però colpisce anche qui nell'attesa la differenza le classi sociali più alte diciamo così parlano continuamente di contatti con il vaticano cioè dicono oggi voglio andare a trovare mio zio monsignore in vaticano per chiedergli a che punto siamo oppure parlano del vaticano della croce rossa addirittura dell'ambasciata tedesca come luoghi dove andare a chiedere notizie per i propri familiari per esempio per gli ufficiali che non si sono cioè che non si sono consegnati ai tedeschi e che quindi sono deportati e però cosa c'è diciamo ancora in questo in questi strati sociali c'è almeno l'illusione perché in realtà è un'illusione di poter continuare a gestire la propria vita cioè c'è l'illusione del privilegio in una situazione che realmente invece questo privilegio ormai lo sta azzerando davanti all'orrore del presente loro non si rendono conto in un diario addirittura una moglie dice scrivendo idealmente al marito ufficiale che è stato deportato in germania mi immagino che sei lì con i tuoi amici a giocare a no cioè non si rendono proprio conto di cosa stanno parlando però hanno questa illusione che loro sono forti mentre invece ovviamente per tutti gli altri c'è solo una cupa k di angoscia claustrofobica no per tutti gli altri che non agiscono no e soprattutto c'è questa girandola in interrotta di voci molti diari cominciano ogni giorno dicendo dicono dicono no questa voce che gira stanno arrivando quindi illusioni speranze poi invece il cannone che suona che no che batte poi invece no non arrivano no bisogna ancora aspettare ecco se ho proprio altri due minuti posto se ho altri due minuti vorrei invece passare diciamo per concludere al discorso degli alleati no ecco all'interno di questo diciamo panorama il 4 giugno lo sappiamo arrivano gli alleati e allora per un attimo in tutti i diari in tutte le memorie ci troviamo proprio davanti a un foto finish no sono tutti contenti sono tutti contenti nello stesso modo la parola che ripetono tutti è festa festa no gli sentivamo un capodanno no è che molto bello ovviamente nella letteratura poi queste cose no ecco la festa però abbiamo anche per esempio questa me mi ha colpito molto ne parlavo ieri con clean camera il fatto che tutti indistintamente provano pietà per i tedeschi che se ne stanno andando cioè questi tedeschi che fino al giorno prima erano gli occupanti dell'orrore adesso sono non sono più loro che se ne sono già andati ma sono invece i tedeschi che arrivano da cassino e quindi sono feriti sono sporchi sono laceri si trascinano dietro di tutto no con i carrettini e la gente dice ah che pena però poveretti quasi quasi oggi mi hanno veramente fatto pena e questo è un elemento secondo me molto interessante no della difficoltà di fare anche questo ieri si diceva di dividere no in modo netto le cose no e anche il rapporto no con con queste presenze e quindi però comunque è grande festa è grande festa e subito dopo però dopo questa grande festa dopo pochi giorni le strade i destini della città tornano a dividersi di nuovo e in realtà chi può mettere in valore i suoi contatti con gli alleati ne ha un vantaggio enorme e chi sono sono di nuovo le famiglie nobiliari che spesso hanno matrimoni internazionali e quindi hanno mogli americane per esempio inglesi no oppure diciamo di nuovo l'alta borghesia che si è premurata se già non lo sapeva durante i nove mesi di imparare l'inglese questa è un'altra cosa che torna molto sia nei diari che nelle memorie no stiamo imparando l'inglese oppure già lo sapevano perché ovviamente erano ceti colti diciamo che andavano a scuola e poi naturalmente il mondo della cultura dell'arte dello spettacolo ecco questi ambienti questi ambienti hanno dagli americani cibo hanno il contatto il contatto con i loro omologhi cioè con persone con gli ufficiali e con di nuovo cultura arte spettacolo che arrivano con gli alleati a roma e allora tutto questo porta cibo porta movimento porta feste no ma porta anche un sacco di occasioni per il seguito poi della vita lavori che poi diventeranno importanti nella vita però è una minoranza il grosso della città il grosso della popolazione le famose classi medie impiegatizie in realtà precipita innanzitutto subito nella delusione no ci aspettavamo tanto da questi alleati e poi invece qua che è cambiato non è cambiato niente e perché non è cambiato niente perché in realtà la guerra continua perché in realtà gli alleati sono liberatori ma sono anche occupanti ovviamente no e stanno facendo la loro guerra e quindi non è che possono no ovviamente distribuire diciamo il luna parche e a questa delusione si aggiunge l'apatia l'indifferenza la chiusura che è classica nelle descrizioni del del ceto medio romano no questo riprendere subito una dimensione chiusa su se stessi e questo perché perché in realtà i servizi non ripartono subito ovviamente perché gli uffici sono nel caos e l'inflazione si divora i loro piccoli stipendi perché il mercato nero che i tedeschi tenevano c'era tanto abbiamo detto ma era chiuso nelle case e invece a questo punto è proprio per strada scodellato davanti a tutti ma loro non ci possono più accedere si sono venduti tutto ormai quindi non hanno più soldi per comprare al mercato nero le piccole classi medie romane sono addirittura costrette ad andare alle mense di povertà per mangiare quindi l'umiliazione no l'incubo del declassamento che è un elemento importantissimo ecco e poi per finire le classi popolari le classi popolari naturalmente lo sappiamo benissimo dalla letteratura lo sappiamo dai film no ovviamente conoscono fenomeni di arricchimento individuale ovviamente sono dinamiche da questo punto di vista sono abituate al borderline con l'illegalità quindi entrano appunto nell'illegalità della borsa nera nei traffici che sempre uno un esercito di occupazione porta con sé e quindi anche gli alleati però nella stragrande maggioranza in realtà entrano in un lungo dopoguerra fatto di violenza no ci sarà tantissima violenza a roma nei mesi e negli anni successivi di disoccupazione e soprattutto di questioni sociali e di questioni abitative irrisolte e questi sono tutti i problemi che verranno poi rilanciati e resteranno a lungo sul tappeto e di nuovo lo sappiamo molto bene dalla letteratura dal neorealismo e da quant'altro no tutti questi grandi problemi che nascono e vengono alla ribalta in questo immediato dopoguerra resteranno poi a lungo nella realtà romana per tutti gli anni 50 e 60 in una roma che nel frattempo si sarà triplicata perché appunto la roma di un milione di abitanti del 36 un milione e mezzo addirittura gli americani dicono quasi due milioni no subito dopo la fine della guerra diventerà la roma di quasi tre milioni del censimento del 71 ma ancora piena di tutte queste problematiche che lì sono venute con forza in evidenza grazie a lidia piccioni possiamo passare l'intervento conclusivo di questa prima parte della mattinata con nanna balzarro la resistenza nei quartieri di roma san lorenzo testaccio cento celle quadraro montesacro prego grazie allora san lorenzo testaccio cento celle quadraro montesacro quindi stiamo parlando di cinque diversi quartieri ecco vediamo innanzitutto se il discorso che faceva prima lidia piccioni di vedere la vita a roma nello spazio queste sono quasi tutte zone di periferia però abbiamo anche testaccio che invece è chiaramente più centrale allora possiamo provare a vedere se possiamo accostarli da un punto di vista di composizione sociale ora da un certo punto di vista sì perché vediamo che in quasi tutti sono sono quartieri dove le varie componenti artigiane che possono andare da calzolai dai tipografi dagli edili molto sono ampiamente rappresentate però al tempo stesso abbiamo montesacro che rappresenta una realtà parzialmente diversa perché vedremo che la resistenza lì è caratterizzata da una forte componente studentesca e c'è una parte del quartiere che invece è un quartiere di classe di classe media e cinque quartieri che sono stati studiati individualmente insomma anche negli ultimi anni in modo approfondito ma che adesso vorrei vedere cosa succede ad accostare vediamo se studiandoli insieme possiamo avere delle risposte che in qualche modo ci aiutano innanzitutto ognuno dei cinque è legato in modo forte a un avvenimento particolare che ne caratterizza la storia degli anni di guerra san lorenzo il bombardamento del 19 luglio testaccio i combattimenti del 10 settembre a porta san paolo il quadraro e montesacro da due rastrellamenti imponenti avvenuti rispettivamente a montesacro in ottobre del 43 al quadraro ad aprile del 44 cento celle la storia di cento celle la conosciamo anche molto grazie alle memorie di bentivegna col comizio a piazza dei mirti quindi piazza dei mirti zona libera in cui tedeschi non potevano entrare quindi ognuno è caratterizzato insomma da una da un aspetto che ne fa ne fa storia contemporaneamente vedendoli insieme mi è sembrato di notare che possono essere anche assimilabili a coppia questi quartieri nel senso che san lorenzo e testaccio da un lato cento celle quadraro dall'altro con poi montesacro perché però sfugge anche a questa a questa definizione insomma di vederli a coppia testaccio e san lorenzo sono stati costruiti nella stessa epoca quindi negli anni ottanta dell'ottocento e hanno una composizione sociale analoga sono quartieri operai a tradizione socialista e vediamo che tutti e due i quartieri hanno un punto importante una zona importante per san lorenzo il cimitero del verano per testaccio il mattatoio e per testaccio ecco Irene Ranaldi poi che l'ha studiato insomma in modo approfondito ha visto che la storia del quartiere è legata anche in un certo senso alla sua evoluzione e al fatto che il quartiere sia un quartiere operaio però al tempo stesso la presenza del mattatoio con i suoi magazzini la vicinanza con i mercati generali ha fatto sì che sia anche un quartiere molto legato al commercio e che quindi in qualche modo la dimensione della fame al suo interno è stata meno drammatica proprio rispetto ad altre zone di Roma perché era più facile in qualche modo procurarsi da mangiare. Per tutti e due i quartieri si può ritenere valida l'indagine che ha compiuto Domenico Orano nel 1912 proprio sulla provenienza degli abitanti del quartiere per san lorenzo Lidia Piccioni che l'ha studiato appunto ha visto che questa indagine fatta da Orano nel 12 per testaccio poteva in qualche modo essere ritenuta valida cioè che nei due quartieri erano molto presente oltre alla popolazione romana anche la popolazione delle regioni limitrofe dell'Abruzzo in particolare ma anche dell'Umbria, della Campania, della Toscana e così via. In tutti e due i quartieri sono uno dei pochi casi in cui lo sciopero del 3 maggio riesce quindi la resistenza è resistenza portata nei luoghi di lavoro. Ci sono diverse fonderie a San Lorenzo oltre alle varie attività artigiane. I lavoratori del testaccio lavorano al mattatoio ma anche in stabilimenti industriali sulla Garbatella e in tutte queste zone rispetto a quello che è uno sciopero complessivamente fallito a Roma, quello del 3 maggio invece funziona. Un'altra caratteristica è che nei due quartieri la resistenza che viene fatta dagli abitanti, la resistenza armata però viene portata fuori dalle strade del quartiere invece avviene all'interno sotto forme diverse, sotto forma principalmente di protezione e di difesa di chi ha bisogno di nascondersi. Per San Lorenzo questo è molto vero grazie anche alla presenza del cimitero. Il cimitero ha un ruolo negli anni dell'occupazione proprio di nascondere uomini. Dall'8 settembre i soldati che sfuggivano dal forte Tiburtino si possono nascondere all'interno del verano grazie anche alla presenza del vice direttore che era appunto molto attivo nella resistenza. Allo stesso modo anche il testaccio, i singoli partigiani fanno azioni esterne ma poi all'interno si valgono delle reti di solidarietà soprattutto poi per proteggere chi si deve nascondere, gli ebrei e per sopravvivere. Teniamo presente che a San Lorenzo si fabbricano anche nelle fonderie i chiodi a quattro punte, una fonderia importante quella nota di Trastevere, però gli stessi chiodi vengono fabbricati anche a San Lorenzo ma non vengono usati all'interno del quartiere, vengono usati fuori, sulle grandi strade. Questo invece sarà molto, farà parte in maniera, sarà una delle caratteristiche della resistenza a Centocelle e al Quadraro. Questi due partieri costituiscono un'altra coppia. Ecco, da un certo punto di vista questo è logico anche per la loro vicinanza geografica, appartengono tutte e due all'ottava zona partigiana e se vediamo le cronologie della resistenza a Roma, vediamo che il susseguirsi di azioni armate in tutta l'ottava zona partigiana di cui fanno parte Centocelle, il Quadraro, Torpignattara, Quarticciolo, è particolarmente intensa. Particolarmente intensa tanto che proprio per questo susseguirsi di azioni armate il coprifuoco alla fine di marzo verrà anticipato di un'ora qui rispetto a quello che succede in altre zone della città. Resistenza armata laddove ad esempio a Testaccio era soprattutto una resistenza, una versione che veniva fuori sotto altre forme all'interno del quartiere, ad esempio con gli assalti ai forni oppure con scritte sui muri. Centocelle e il Quadraro si trovano in una zona strategica perché vicino a grosse vie di comunicazione, quindi le azioni proprio di tipo militare hanno un particolare significato, sono molto serrate, tanto è vero che l'evento poi che caratterizza il Quadraro è quello del rastrellamento che avviene il 17 aprile del 44, vengono prelevati 900 uomini poi deportati in campi di lavoro e viene fatto risalire proprio all'intensa attività partigiana della zona. Contemporaneamente però non c'è solo questo, ci sono esempi di solidarietà molto significativi in tutte e due le zone. Si ricorda che proprio nei resoconti delle formazioni partigiane, ad esempio quella della banda di Costantino Rossi al Quadraro, si ricorda tra le proprie azioni anche gli aiuti portati alle famiglie dei rastrellati che erano stati deportati e sempre al Quadraro i panifici lavorano a ritmo serrato per fornire pane alle famiglie delle vittime politiche. D'altra parte un extra-strellato che avevo intervistato anni fa ricordava che una delle attività interne al quartiere era proprio quello di nascondere persone, avevano nascoste circa 25 persone all'interno di un intercapedine del Palà, di un palazzo tra cui anche alcuni ebrei e abbiamo visto a San Lorenzo l'attività di nascondere dentro il cimitero ma non solo il parroco di San Lorenzo, Padre Libero, fa nascondere presso i conventi di altre zone della città intere famiglie di ebrei. Montesacro è un quartiere un po' diverso dagli altri, è costruito negli anni venti come tra gli anni dieci e gli anni venti anche Centocelle e il Quadraro però ha una fisonomia in qualche modo a sé stante perché c'è un nucleo di Montesacro che è una popolazione di ceto medio, professionisti, impiegati e così via e a pochi chilometri di distanza abbiamo da Piazza Sempione che è appunto il nucleo centrale di Montesacro e che ospita anche il primo liceo che sorge in periferia, il liceo Orazio che avrà un'importanza particolare per la resistenza della zona, a pochi chilometri abbiamo Valmelaina e il Tuffello che invece sono zone popolari, operaie. A Montesacro ci sono due nuclei organizzati di resistenza che in qualche modo agiscono anche non in modo collegato tra loro, un primo nucleo più legato alla resistenza operaia e legata ai contatti con i partiti antifascisti come questo è avvenuto anche a Centocelle, a Centocelle va Bentivegna proprio mandato dai gap centrali e troverà però che non ha soltanto l'appoggio dei comunisti conosciuti dentro Centocelle ma ci sarà tutta una rete popolare che l'appoggerà. Quindi c'è una rete anche di resistenza politica e legata ai partiti dentro Montesacro però poi c'è anche un interessante nucleo di resistenza che non ha inizialmente legami con i partiti antifascisti e che è diversa da quella che abbiamo incontrato finora, che è proprio una resistenza di studenti che fanno capo al liceo Orazio. Uno di loro è Ferdinando Agnini e insieme ai suoi compagni organizzerà un foglio clandestino alla nostra lotta e un'associazione studentesca, l'Arsi. Piano piano senza avere iniziali contatti comincerà a stringere contatti con altri studenti di altre zone della città, tant'è vero che la sua associazione studentesca confluirà poi in un'organizzazione studentesca italiana, nell'Unione Studentesca Italiana appunto che sarà un comitato cittadino. Per una delazione la maggior parte di questi studenti sarà arrestata a febbraio del 44, la maggior parte di loro il 3 febbraio e Agnini sarà arrestato il 24 quando tornerà a casa credendo poi di essere ormai al sicuro. Sarà torturato a Via Tasso e poi fucilato alle fosse Ardiatine. Quindi in conclusione guardando la storia di questi diversi quartieri durante l'occupazione tedesca cosa abbiamo incontrato? Episodi di resistenza armata e di resistenza non armata, azioni militari come a Porta San Paolo, fabbricazione di chiodi e lancio di chiodi sulle grandi vie di comunicazione, quindi tanti aspetti di resistenza attiva ma anche tanti aspetti di solidarietà e di impegno. Vengono nascosti i ebrei, vengono nascosti i partigiani dentro il cimitero, vengono fatte azioni di solidarietà verso le famiglie di rastrellati. Quindi vediamo che l'insieme delle caratteristiche che vive Roma durante l'occupazione, già si colgono studiando un singolo quartiere, ma se accostiamo quartieri che possono avere lati comuni ma anche specifici diverse, la storia intera di Roma in guerra in qualche modo torna, viene fuori. bene, grazie a Dana Valzaro. Devo dire che tutti i relatori hanno rispettato al minuto il tempo loro assegnati, 20 minuti. Questo ci consente, visto che la mattinata prevede una seconda parte più breve con due interventi sulla lotta partigiana e violenza e stragi naziste a Roma, di chiedere se c'è qualcuno che vuole su questa prima parte fare delle domande, richiedere dichiarimenti su quanto è stato sin qui detto. non ci sono curiosità, prego. grazie. Grazie. Forse qualche risposta ci sarà poi anche nella parte, nei due interventi successivi, se però. altre domande? Ci sono più che deve chiedere qualcosa? Forse per questa risposta io guarderei da questa parte. magari una cosa la posso dire, poi appunto sicuramente anche gli altri hanno da dire, ma io credo che sia dovuto, è un po' il discorso che facevo all'inizio delle memorie liberate, no? Cioè fino a un certo punto noi abbiamo avuto delle narrazioni molto forti e molto ufficialmente condivise della resistenza di quei mesi e via discorrendo da un lato, a livello pubblico proprio, no? E dall'altro abbiamo avuto anche come storiografia, una storiografia molto, diciamo, su dei binari forti, no? Che quindi ripercorreva strade forti. E chiaramente in questo ambito Roma aveva un ruolo minore, no? Aveva un ruolo minore perché ovviamente era inevitabilmente schiacciata dalla grande resistenza del nord. Tra l'altro c'è da dire che un altro dei luoghi, diciamo, importanti nel giudizio sulla città è il famoso vento del nord, dopo che è il vento della resistenza, che si dice che a Roma, no? È venuta ad esaurirsi, no? La famosa, diciamo, dimissioni di parri alla fine del 45 sono state lette proprio in questo modo, no? Il vento del nord, il rinnovamento della resistenza che invece nelle sabbie mobili, no? Della burocrazia, della politica romana viene a morire e a finire. Quindi Roma ha sempre avuto un suo destino di lettura di città appunto impiegatizia, di città morfa, no? Qua è molto interessante perché è il grande problema del rapporto identitario italiano proprio, del rapporto tra il paese e la sua capitale. Quindi è un tema molto più grande. Però, diciamo, entrando proprio nello specifico è anche stato un po' un tema di categorie storiografiche. Cioè finché si è studiata la resistenza come resistenza militare, come grande resistenza, ovviamente Roma aveva comunque un ruolo un po' minore. Esiste, no? Il primo libro sulla resistenza romana è Piscitelli, che è un po' l'equivalente di battaglia per la resistenza nazionale. Cioè è, diciamo, il libro che racconta la resistenza da un punto di vista militare. Quindi che una resistenza a Roma ci fosse stata, in realtà è stato detto subito, appunto, il libro di Piscitelli è un libro addirittura, quando è degli anni 50 addirittura, forse 60 al massimo, 60 appunto, no? Però comunque è un libro che, quando io ho cominciato a studiare queste cose, era già un libro antico, fondamentale, diciamo. Però era un po' una nicchia di conoscenza. Nel sapere comune era una città dove non era successo un granché. Questa, diciamo, intangibilità del centro, a cui io accennavo, no? In questa divisione tra il centro e le periferie, questa immagine di Roma intatta era l'immagine prevalente. Gli americani, quando arrivano a Roma, nelle loro memorie, dicono che sono sbalorditi, perché la città è intatta, no? Vengono da Rapoli, che chiaramente è stata bombardata per anni, vengono da Cassino distrutta, no? E trovano invece questa città. E allora questa immagine consolidava l'immagine che ai Romani non gli succede mai niente, praticamente. Cosa è successo invece negli ultimi, però, ormai 30 anni, diciamo? Che da un lato la storiografia è andata su terreni sempre più sensibili, sempre più sfumati, sempre più articolati nel cercare dei racconti e nel cercare delle spiegazioni, no? E allora al tema della grande resistenza che ovviamente resta e che è quello appunto che ha quasi delle componenti di storia militare per certi versi e poi naturalmente di storia politica, si aggiunge anche per esempio il tema della resistenza civile, che è stata una scoperta della storiografia negli anni 90. Allora nel momento che viene scoperta la resistenza, che cioè che anche la resistenza non armata, ma la resistenza invece fatta appunto di solidarietà, di nascondere, di resistere passivamente, no? Cioè a Roma i tedeschi, ieri lo diceva Klingkamer, che poi è stato quello che più l'ha studiato, perché ha studiato i tedeschi, è la città che meno risponde alle richieste dei tedeschi, delle città occupate. Cioè i tedeschi continuano a fare bandi di chiamata, bandi di questo e bando di quello, la gente fa finta che non li vede, si nasconde, non risponde, no? Mezza Roma nasconde l'altra metà, no? Una cosa famosa che si dice sempre. Quindi diciamo che la storiografia in realtà è entrata in terreni che invece hanno particolarmente valorizzato la storia della città, che è una storia appunto, sì anche ovviamente di resistenza armata e lo vedremo, no? In quest'altra parte diciamo della mattinata, ma moltissimo invece di una resistenza fatta in realtà passivamente di non adesione, di ostilità, no? Che copre tutto. Allora cosa c'è in questa ostilità? Ovviamente c'è anche il fatto che questi americani alle porte, andarsi a compromettere proprio all'ultimo momento, forse era meglio di no, questa componente un po' opportunistica c'è inevitabilmente nella città, però c'è anche tanta proprio invece presa dalle distanze dal regime e dai tedeschi, perché Roma è la capitale anche in questo e per quanto è stata poi la città del regime è quella che più, anche proprio negli studi degli ultimi anni, negli osservatori del regime, è quella che più a un certo punto si stacca proprio dal regime, no? Se ne prende le distanze, forse proprio perché la cosa più vicina poi è la più delusa, no? E quindi c'è anche proprio un un poterne più veramente della popolazione che a volte in modi anche molto minuti però ostacola l'occupazione e comunque sicuramente, tranne ovviamente casi che ci sono sempre di delatori, di opportunisti invece che si legano e diciamo all'occupazione che ovviamente ci sono anche per Roma e sono stati molto studiati, no? Però nella sua maggioranza è una città che ottusa, ecco, rispetto all'occupazione. Sì, piano piano, insomma, non in questi anni è venuta un po' fuori, diciamo. Prego. Sì, piano piano, insomma, non in questi anni è venuta un po' fuori, diciamo. Ma non in questi anni è venuta un po' fuori, diciamo. Sì, piano piano, insomma, non in questi anni è venuta un po' fuori, diciamo. Ma non in questi anni è venuta un po' fuori, diciamo. E' venuta un po' fuori, diciamo. Allora, non in questi anni è venuta un po' fuori, diciamo. E' venuta un po' fuori, diciamo. La prima è venuta un po' fuori, la seconda è venuta un po' fuori. che è venuta un po' fuori. Il video è venuta un po' fuori. Ma non in questi anni è venuta un po' fuori. E' venuta un po' fuori. Ve nلا chase luoghi. E' venuta un po' nu Rule. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.